Il primo tempo per come lo volevamo fare e l'abbiamo fatto bene. Poi è bastata una disentrazione a centrocampo, un raddoppio non arrivato dentro l'area per andare sotto nel risultato ma non nella prestazione. Dovevamo assolutamente evitare il secondo gol perché c'erano tutte le situazioni ideali per non subire un gol del genere. Un peccato perché è un momento dove sicuramente possiamo fare meglio, questo sì, ma dove veniamo penalizzati un po' troppo ma questo ci deve stimolare per crescere perché il livello di queste competizioni è alto, il livello quando affronti gli sconti diretti in campionato è molto alto e noi dobbiamo soprattutto dal punto di vista tecnico poter giocare gli appartiti migliori. Il risultato di Newcastle credo che sia un risultato, l'unica cosa positiva della serata che ci dà ancora delle possibilità e dobbiamo assolutamente crederci. Poi è chiaro che dobbiamo fare tanti punti, non so se vincere tutte e tre ma ci dobbiamo credere perché possiamo fare bene, perché possiamo fare meglio, perché abbiamo le qualità per poter vincere il posto in grado.